Primo giorno con le mascherine a mezzo servizio e già il Veneto guarda i passi successivi verso una nuova normalità. Sugli spostamenti fra regioni, ad esempio, il presidente della regione Luca Zaia è molto chiaro. Per quanto riguarda gli spostamenti, vi confermo la mia posizione di assoluta contrarietà nel chiedere o imporre limitazioni a chi viene in Veneto. Io penso che sia fondamentale che ci sia la libera circolazione nella responsabilità. Ci sono delle regole da rispettare che sono quelle dei dispositivi. E a chi fa polemica sull'ordinanza che regola l'uso delle mascherine, il presidente risponde che... Il dispositivo, ovvero la mascherina, oggi viene utilizzato secondo le regole previste dal DPCM. Quindi non c'è nessuna volontà di fare prove muscolari o di fare i primi della classe. Vi ricordo che il DPCM prevede ambienti chiusi oppure all'aria aperta quando non c'è distanziamento sociale e quindi c'è assembramento.